Il consiglio 5 Tra le persone più importanti della fondazione E soltanto coloro che sono sotto il livello di sicurezza 2 Non sanno nemmeno della loro esistenza Oggi vedremo un po' di più riguardo al misterioso consiglio 5 Anche noto come il comando 5, Overseers e Overwatch Mi raccomando che abbiate un livello di sicurezza 5 Non mi piacerebbe dover mandare degli agenti nella vostra posizione Iniziamo col dire che i membri del consiglio 5 Hanno un livello di sicurezza 5 Anche noto come Taumiel Clearance Questo perché infatti coloro che hanno una sicurezza di livello 5 Hanno accesso alla conoscenza dell'esistenza degli SCP di classe Taumiel Come per esempio SCP 3000 Anche noto come Ananta Shesha Di cui parleremo in futuro Oppure SCP 2000 Deus Ex Machina Di cui anche parleremo in futuro E chi crede inoltre che Nella posizione di un singolo membro 5 Esempio Facciamo l'esempio O5 5 Ci sia in verità più di una persona E anche però Chi crede che in verità Non ci siano in verità 13 membri nel consiglio Che la maggior parte di questi Siano stati inventati da quelli veri Per ovviamente Non mi viene il termine Distrarre coloro che potrebbero volere uccidere Cioè Sono nemici comunque E anche chi crede Che un membro del consiglio O5 Possa trovarsi per evitare di essere ucciso Su una stazione spaziale segreta Che orbita attorno alla Terra I membri del consiglio O5 Sono considerati Chi del personale In classe A Quindi di primaria importanza Per la fondazione Appunto per questo motivo I membri del consiglio O5 Non sono autorizzati Ad entrare in contatto con gli SCP Per evitare una corruzione O Sino la morte Anche se In certi casi I membri del consiglio O5 Non seguono neanche le loro stesse regole E interagiscono con gli SCP In caso di un Di un pericolo Come Può essere per esempio La breccia del contenimento Di un SCP Il trasferimento del consiglio O5 È una missione Di 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 primaria importanza I membri del consiglio Inoltre fanno utilizzo Di SCP-006 La fontana della giovinezza Una Questa L'acqua di questo Specializzo Insomma Con Delle proprietà Che curano le malattie E come dice il nome Ringiovaniscono Nel caso inoltre Debbano Trovarsi contro Un Reality Bender Ovvero Entità che hanno la capacità Di modificare in parte La realtà E Insomma Che possono modificare in parte La realtà E utilizzarla O Che si trovassero davanti A uno scenario CK Di ristrutturazione Della realtà I membri del consiglio O5 Sono protetti Da una specie di aura Che viene data Da una specie Di un dito Di un Reality Bender Così and dire Alcuni di questi Membri Sono stati messi In un'altra Scuola speciale Mobile Ovvero La Insurgency Che è poi diventata La Chaos Insurgency Uno dei nemici Più noti Della fondazione SCP Inoltre I membri del consiglio O5 Hanno anche degli assistenti Definiti Factorum Questi Factorum Oltre ad avere Sono tra le poche persone Oltre al consiglio O5 Che hanno accesso A un livello di sicurezza 5 Hanno anche spesso Proprietà anomale Ora passiamo All'identità Possibili Del membro Del consiglio O5 Non sono certe Ovviamente Ci sono solo possibilità Iniziamo con O5 1 Definito spesso Come il fondatore O5 1 Sarebbe colui Che ha creato La fondazione Colui che l'ha fondata E ciò Visto L'antichità Appunto Dell'esistenza Sì Della fondazione E dei gruppi Da cui sarebbe venuto Per fondare la fondazione O5 1 Avrebbe Circa 200 anni Anche se non sappiamo Se O5 2 Sia un lui O una lei Sappiamo che È rappresentato Insomma Con una figura Anziana Con cicatrici Che ha la chiave Per un oscuro Passato O5 3 Tutti i little Little mister Creati dal Dr. Wondertainment Ne parleremo In futuro O5 5 Comunque è uno Probabilmente È probabilmente Un O5 Abbastanza di facciata Quello che si fa Di vedere Di più In pubblico Sarebbe Dietro Anche A stare Dietro Insomma Alle Organizzazioni Di facciata La fondazione Oppure Oppure Potremmo Pensare All'opposto O5 5 O5 5 Insomma Come lo potete chiamare Sia in verità Dietro Sia cancellato Dal database E Erroneamente Dalla memoria Di tutti E anche Di tutti Coloro Che lo avrebbero Incontrato successivamente E che sia stato Successivamente Classificato Dalla fondazione Come SCP 055 L'antimeme O anche Noto come Sconosciuto O5 6 Sarebbe Un maschio Di origini Europee Non ne sappiamo Quali tra le due Ovviamente Sia la vera E anche Tutta questa cosa Però Ti ipotizza Che o Sia Il miglior agente Della fondazione O che in verità Sia un Burattino Della GOC Global Occult Coalition O se preferiti In italiano La coalizione Globale Dell'Occulto O5 7 Sarebbe Una donna Di origini Asiatiche Sarebbe Diciamo Lo stratega Del consiglio Guardo O5 8 C'è Abbastanza Mistero Di fatto Non lo si è visto In pubblico Da un po' C'è chi Crede Che potrebbe Essere Stato Assassinato Ma chissà O5 10 Sarebbe Una donna Molto ben Addestrata Per combattere Tutto Si presume Che sia anche La miglior Assassina Il mondo Oppure potrebbe Potrebbe essere Il veterano O anche Noto Come Il generale Ma Che fa parte Appunto Del esercito Americano Anziano O5 11 O5 11 Potrebbe Trattarsi Il collegamento Tra I governi Del mondo E la fondazione Oppure potrebbe Essere Un signore Anziano Anche se Potrebbe Anche trattarsi Colui Che si trova A capo Del dipartimento Di disinformazione Quindi queste due Potrebbero Essere Delle bugie O5 12 Invece Si trattava O meglio Si trattava Di Adam Bright Padre di Jack Bright Il dottor Jack Bright Ovvero Un dottore Molto famoso Della fondazione Di cui abbiamo Parlato Anche In un altro Video Vi lascio Il link In descrizione Se volete Recuperarvelo Adam Bright È stato Usciso Dai suoi Compagni Del consiglio Dopo che hanno Scoperto Che era diventato Un membro Del consiglio Per liberare Sua figlia Che appunto Era un SCP E ora Arriviamo con O5 13 L'ultimo E anche un po' Più particolare Di fatto C'è chi crede Che O5 13 Non esista O che il numero 13 Sia stato aggiunto Per il suo Motivo Un po' Fortunato E anche un po' O maligno In termini Moderni C'è anche chi Crede che in verità Tutti i membri Del consiglio Siano 513 Rimanete Sintonizzati Con il prossimo video In cui vedremo Chi sia in verità Una figura Ancora forse Più misteriosa Dei membri Del consiglio L'amministratore Potrebbe essere Qualcuno Di facciata Al consiglio O potrebbe Trattarsi in verità Di colui Che controlla Il consiglio Stesso Quindi Preparatevi Per un prossimo video Sull'amministratore A Dottor Tartle È tutto Ciao Ciao